Donare il sangue può salvare una vita, ma deve essere una scelta libera, consapevole e responsabile. Il sangue raccolto attraverso la donazione è infatti indispensabile negli interventi di primo soccorso, negli interventi chirurgici, nella cura di emorragie e ustioni e nella cura di alcune malattie gravi come tumori, leucemie e anemie croniche. Ricordati che la donazione è sempre gratuita, quindi cosa aspetti? Diventa anche tu un donatore di sangue.